Più chiaro di così? Versate l'acqua sopra un piano. L'acqua scivola molto facilmente. Versate il detersivo su un piano inclinato. Tende ad andare lentamente, come la lava. Se il liquido è viscoso, intorno il liquido tenderà a far scivolare poco l'oggetto. Allora, il detersivo è più viscoso dell'acqua e lo vedete da questo esperimento. Il detersivo ha opposto una certa forza, che si chiama forza di attrito viscoso, alla pallina. Nell'acqua è successo lo stesso? Invece sì, certo che è successo. Semplicemente la forza di attrito viscoso nell'acqua era meno. E' chiaro, nell'aria succede, cioè l'aria ha una viscosità, ma vuole che tiene la viscosità all'aria. Ci muoviamo in un gas che ha una viscosità bassissima e ci riusciamo a muovere facilmente. Grazie. Grazie.